ragazzi e ragazze bentornati ci troviamo di nuovo qui sul football manager 2022 con la nostra carriera patta sgravata quello sterling elbion o meglio con trevor hopkins allo sterling elbion come vedete la classifica ci sorride ampiamente ma andiamo a vedere un attimo nel calendario cosa è successo allora come vedete ogni tanto si bagga e saltano i mesi ma vabbè fa niente come vedete al netto della sconfitta contro il curti hearts che è la squadra di riferimento di questa di questa divisione anche andando a controllare nella nella realtà sono neopromossi ma hanno costruito una squadra già pronta per praticamente dali guan e quindi sarà difficile vincere il campionato contro di loro quest'anno come vedete abbiamo in anellato tre vittorie consecutive sia contro stai nas muir che era molto difficile partita in casa in trasferta contro gli albion rovers che sono la sua da peggiori questo momento del campionato dovrà essere ultimi se non ricordo male contro lei di imborsiti anche questa in in casa 2 a 1 aveva abbiamo dominato per 90 minuti hanno fatto quello l'ottantaduesimo quindi vabbè non è stato proprio il top ma abbiamo giocato tutti abbastanza bene come vedete anche qua dei voti ora ci avviciniamo alla partita contro il caldo andiamo a giocare in casa loro e non sarà semplice perché caldo e mi è comunque favorito andando a vedere la litte il caldo è qua dietro è al quinto quarto posso l'ultimo disponibile per la playoff noi stiamo mettendo importanti distanze perché siamo primi a pari metri con i colti arti sono secondi penso per differenza reti o per scontri diretti la loro differenza reti migliore della nostra abbiamo entrambi 30 punti iniziano ad essere abbastanza i punti dalla quinta posizione perché noi come obiettivo è quello non di vincere il campionato quindi di fare la promozione diretta ma il nostro obiettivo è quello di partecipare ai playoff che appunto arrivare tra secondo e quarto posto con una sorta di qualificazione champions league potremmo definirla così attualmente è ampiamente centrata 9 punti dalla quinta posizione ma non dobbiamo abbassare assolutamente l'attenzione è chiaro che mi piacerebbe puntare alla vittoria del titolo per fare una subito un salto in league one per vedere poi come va a finire la ho i miei dubbi che possa finire bene ma vediamo come ho ripetuto tante volte in questa serie non è la serie dello sterling elbio ma la serie di trevor hopkins quindi se ci saranno altre opportunità migliori per il nostro allenatore andremo andremo ovviamente a a prenderle in questo momento abbiamo patetito mi continentale dobbiamo fare patetino a continentale non credo ce lo faranno fare non so nemmeno se glielo ci ha chiesto o i miei dubbi dobbiamo migliorare un po anche a livello di qualità chiaramente però per adesso stiamo facendo abbastanza bene già il secondo mese di fila che eravamo secondi come ecco da sei mesi sono tornati va bene speriamo secondi come allenatore del mese quindi ci siamo e vince sempre quello del kit hearts perché ha fatto ha vinto tutte le tutte le partite quindi anche quella contro di noi vedete a novembre ne abbiamo perso solo una vinte le altre tre comunque il campionato prima della sconfitta con i clienti a sarà un bel giro e che abbiamo perso sempre pronto di loro in realtà quindi in questo momento per quanto riguarda lì solamente che il tiazze davanti a noi non è un grande peccato perché due sconfitte consecutive contro di loro e un paio di pareggi qua e là ci hanno impedito di essere in prima posizione o meglio di essere tanto primi posizioni rispetto a loro che senza quei sei punti guadagnati ne avrebbero sei meno conto di noi ma vabbè quasi sono ragionamenti che non stiamo qui a fare adesso come vedete manca ancora buona parte del campionato circa metà noi non prendiamo altro tempo perché abbiamo la nostra formazione pronta siamo il giorno della partita contro il caudan biff che sono quarti sarebbe bello vincere per piazzare ulteriori punti davanti la formazione è più o meno questa come vedete che rimedici mcgregor flatman che è sempre entrato sempre di più nelle rotazioni ormai titolare fisso watson lì a sinistra rabbino ma che sta giocando bene anche con la propria nazionale quindi molto bene gratis roberts rey grant fresco di rinnovo vedete quattro stelle come da in bici che però lui perderemo a fine anno al 99 per cento del carri che sta giocando veramente bene già sette gol e film al com preferisco lui a di la mac in va bene così ea che johnson per ora mi limito a fare questo tipo di scelte vorrei far giocare di più questo ragazzo fin mac rob delle giovani 19 anni avete potenziale quattro stelle quasi cinque è un po lentino per il resto è comunque a livello di un mcgregor quindi prima o poi farà su ingresso in prima squadra abbiamo fatto un acquisto al parametro zero che adesso vi devo andare a recuperare qui che questo and easton parametro zero si prende 3.200 euro all'anno fino al 2023 quindi di un paio d'anni e guardate che qua si sta parlando di un ragazzo che può arrivare a diventare stella quindi vediamo potrebbe prendere posto di bichi eventualmente perché lo vedo anche meglio di flandi di flanagan anche se lui è un tre stelle e mezzo di potenziale anche che non arabi no ma è un giovane giocherà con il sterling game under 18 per un po anche questo cano mur che potrebbe già essere pronto per il salto di qualità perché come potenziale vedete da quattro stelle quasi cinque anche lui centro capisce centrale vedremo se riusciremo a farli trovare un po di tempo per giocare a questi ragazzi non voglio rischiare troppo quindi andiamo alla riunione tattica ragazzi non perdiamo altro tempo diamo l'istruzione dell'avversario come consigliato dal nostro allenatore in seconda e questa è la formazione noi andremo li equilibrati perché stiamo giocando in trasferta e non siamo favoriti questi sono comunque buoni giocatori con cui siamo contro giocare vediamo come come siamo messi ovviamente abbiamo una panchina una cosa molto lunga perché abbiamo solamente sette sostituti e solo tre sostituzioni quindi è un po lunga ma cercheremo di gestirla bene le watson è leggermente fuori forma eventualmente gli daremo il cambio vediamo se al cambio pronto o mcniff o direttamente di stesilla che è un altro ragazzo che dà la possibilità di diventare tra sale quasi quattro è abbastanza veloce quindi vorrei poter provarlo anche lui perché giocava giocatore i grant ultimamente come terzino sinistro gioca molto bene anche lui può diventare un 4 4 stelle e mezzo quindi il giocatore importante fresco di rinnova rinnovato anche jordan mcgregor sono i due giocatori più importanti che abbiamo in rosa quindi molto bene conferma formazione le watson informa che vedono di gestirlo assolutamente andiamo alla partita ragazzi e ce ne andiamo a gustare come al solito sintesi estesa le altre partite stanno giocando solo in azioni chiave perché assolutamente non finiscono più nessuna reazione riprendiamo dove abbiamo lasciato andiamo a modificare a no nulla saltiamo e andiamo qui in sintesi estesa perfetto siamo pronti per vedere la nostra formazione contro il caldo abbiamo già fatto due ti importa due tiri qui zero nello specchio iniziamo già dove andare di più come buona ogni buon allenatore food manager sa che deve fare vedo che è una partita molto secca di titi non ha non ha nessun tipo di interazione va bene noi dove andiamo incoraggiamo la squadra e vediamo che proprio noi andiamo con la pallone vediamo marcom perde palla centrocampo occhio per delle palle così non sono dei due palloni persi quella maniera vediamo sulla sinistra cazzo non ha intercettato molto bene vediamo roberts medici mcgregor lancio lungo sbagliato vediamo rabbino ma intercetta lancio per bichi vediamo bichi che prova in buttarsi in mezzo parli mezzo per romar colpo di testa dal limite dell'aria un po veleitaria secondo me però bella l'azione dobbiamo stare attenti non perdere troppi palloni in mezzo al campo così che non sono mai non è mai bello occhio calci di punizione mcgregor allontana a che palla ancora gallo in mezzo attraverso attraverso del caldo in occhio ragazzi occhio alla benna occhio alla benna perché questi ci sono e vogliono giocare ci sono vogliono giocare cos'è caccia d'angolo attenzione e deviazione dei portieri grande cari grandissima parte il contropiede di marco ma attenzione marco vede lancia carrick potrebbe rimetterlo in mezzo che è che la rimette in mezzo ma il calcio d'angolo a che peccato potevamo fare meglio qui vediamo roberts palla in mezzo non ci arriva nessuna attenzione a contropiede loro adesso del county maghi ci fa un intervento clamoroso bravissimo l'alto lancio lungo troppo troppi lanci lunghi alcune volte ci hanno portato direttamente al gol quindi mi rendo conto che i ragazzi siano un po più spronati a fare questo tipo di lanci diamo un tiro fuori di molte del caldo in beta bisogna essere sempre un po attenti domandiamo ancora di più altro calcio d'angolo palla in mezzo e atto in mezzo a 3 riesce addirittura a buttarla dentro una zero del caldo e sono stati più d'oddio sono semplicemente stati pochino più precisi di noi perché gli expected goals sono praticamente pari quindi deve cercare di terra fuori qualcosa di più reazione diversa voglio vedere una partita diversa nel secondo tempo non stanno giocando bene nessuno dei nostri fin è quello che sta riscando di più di uscire dal campo vediamo vediamo se i nostri ragazzi sono entrano nel secondo tempo un pochino più spigliati è una partita sicuramente da 0 a 0 da pareggio vediamo se riusciamo a fare una cosa di meglio rischiare i kirti hals rischia veramente di andarsene così sarebbe un grande peccato vediamo sicuro caccia punizione di grant prova il tiro diretto gil paratona grant non è la non è nuova fra gold ali ne ha già fatti un paio vediamo che si butta in mezzo non ce la fa vediamo magici palla per watson male in mezzo per cariche non ci arrivi in mezzo a tre lui non è così fortunato purtroppo ha fatto tre tiri in porta loro uno solo ragazzi it's football manager all over again va bene andiamo lemon lancio lungo sbagliatissima grego ripartiamo vediamo omar palla per me che eric prova a buttarlo in mezzo per marco ma ancora bichi che eric bichi ancora palla dietro per grant quasi prendiamo omar rete ma dove è andato portiere loro dove stava andando rapino ma rete una una cosa cosa ha fatto poter avversario bravi così ma così lo diamo lo diamo i nostri andiamo di spingere ancora un po di più voglio voglio la vittoria adesso sulle ali dell'entusiasmo vediamo watson lancio lungo perché che non ci arriva bastano sti lanci lunghi ragazzi basta dobbiamo giocare un po di più abbiamo dimostrato che giocandola di più siamo più pericolosi questo colpo di testa non è piaciuto di magici palla recuperata da loro galloway balla in mezzo ora grant sbaglia ancora disimpegno non riusciamo a uscire bene dobbiamo stare un po più attenti me di cerco in mezzo grande intervento di mcgregor credo qui e proviamo a fare primi cambi allora togliamo fin mettiamo macchina vediamo se ci può dare qualcosa in più lui e per ora va bene così però viene così vediamo una una ma vorrei la vittoria ragazzi ve lo dico domandiamo di più subito siamo a 72 se non sta più succedendo niente vediamo di fare qualche cambio ragazzi vediamo se troviamo lo spunto viene mettiamo lei e diamo il cambio a roberts che non sta giocando benissimo in questo periodo e a questo punto teniamo flatman e facciamo esordire mac rob so che è rischioso ma ragazzo secondo me ha potenziale e bisogna rischiare ogni tanto ci mettiamo in positiva proviamo a vedere se offendendo un po di più riusciamo a portare potremmo portarci la casa una partita che potremmo dice che ti alza pareggiando porca miseria niente né io vado solo due cambi tra lato no parla in mezzo mio quasi riscatto di buttarla dentro porca miseria caccio d'angolo rabino ma palla in mezzo palla lunga avevo fatto solo due cambi vabbè va bene tanto non è che avevo chissà quanti quale scelta no tre cambi li ho fatti scherzo potevamo vincere ma come no loro importano comunque fatto un solo tiro quindi grande culo grande culo per quanto mi riguarda peccato perché un pareggio siamo stati sfortunati relativamente è un pareggio che potevamo portare realtà a casa potevamo essere due punti avanti ai nostri amici del culti arts me trova ha fatto ha risolito sono contento andiamo a vedere prima della conferenza è cazzo hanno pe no ragazzi hanno perso shit seriously hanno perso oh no cioè il helgen city ci ha fatto un favore clamoroso potevamo andare avanti di tre punti siamo comunque primi campionato quindi bene però caspiterina 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 potevamo essere primi va bene mi faccio la conferenza stampa poi ci vediamo per i saluti finali ragazzi ed eccoci qui alla schermata del calendario che la solita schermata finale di football manager ora abbiamo visto la vita contro il cowdenby che for far atletic hanno atleti che nei helgen city queste tre partite ragazzi penso che me le giocherò da solo poi faremo un prova in mente un episodio o la partita del 2 di gennaio contro lo sena osmuir o direttamente ci vediamo il culti arts che qualche qualche giorno dopo che la partita importante adesso vediamo perché alla per quanto riguarda caccia mercato come vi ho detto le altre volte siamo limitati dal fatto che abbiamo il già raggiunto il limite massimo di pressiti di squadre della stessa nazione quindi quattro altre squadre difficile andare a pescare perché comunque ci costa a livello di osservatori gente a parametro zero c'è ma sono più che altro gente per il futuro non adesso e la squadra comunque come messa mi sta piacendo non vedo il mercato di riparazione come un mercato per cui dobbiamo andare a comprare qualcuno quindi probabilmente ci vediamo la partita contro e ancora che il tiazzo lo seno osmuir una delle due adesso vi lascio il il dubbio ragazzi ma queste tre sicuramente le farò da solo potremmo vederci però effettivamente il culti asper che giochiamo in casa e vediamo dopo quattro partite se saremo ancora davanti di un punto di due punti e basta se saranno davanti loro si saranno più punti saranno pari vediamo vediamo sicuramente di un punto soltanto scusate sicuramente è un peccato non aver vinto la partita contro il cowden beast nonostante non eravamo favoriti e siamo andati sotto quindi comunque sia sono contento della prestazione dei ragazzi anche del film che è entrato a far parte dei professionisti ripeto questo ragazzo ha ottime potenzialità aumentasse un po lo sviluppo bisogna vedere lo sviluppo ragazzi difensore centrale aumentasse un po la velocità la rapidità che non lo fa allenare ovviamente rapidità ecco perché secondo me se aumenta un po questo valore siamo a posto perché già come come posizione molto bene è molto bene 13 siamo veramente in una non division quindi è sicuramente un ottimo un ottimo viatico quindi ci vediamo la partita contro il tias per nel prossimo anno ha ha nel 2022 l'otto gennaio e nulla ragazzi vi ringrazio mi seguito fin qui vi ricordo di lasciare un like è un commento e di scrivermi se non l'avete ancora fatto dal terra 89 da trevor hopkins e dallo sterling elbion è tutto ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi ciao